elisa mazzucchelli business sport 24 oggi si tinge di blaugrana infatti vi parleremo di messi e del suo contratto milionario con il barcellona il quotidiano spagnolo e il mondo ha pubblicato le cifre esorbitanti dell'ultimo contratto siglato dal barcellona con leo messi il suo campione di eccellenza oltre 500 milioni di euro per quattro anni una somma che fa discutere se si considerano le difficoltà economiche del barça che ha accumulato debiti per oltre il miliardo di euro un contratto che scade il prossimo 30 giugno e che va ad unirsi al premio firma di 115 milioni di euro dal premio fedeltà di 80 milioni si tratta di un contratto che prevede una parte fissa e una parte variabile e che vale quasi 139 milioni di euro a stagione il fatto è che le cifre siano venute fuori e che la stampa si mostri tanto polemica nei confronti di messi sembrano essere segni di una difficile convivenza ormai tra il campione e il paese iberico tanto che a parigi si sono detti pronti ad accogliere la pulce staremo a vedere io intanto vi invito a visitare il nostro sito www.business24tv.it dove potrete trovare la sezione sport e tutti gli articoli completi grazie ciao